È stata una settimana fantastica dei giorni che porterò per sempre nel mio cuore. Contemporaneamente alla serata finale dove sono stata eletta c'era l'inaugurazione della Fiera del Porro. Il Porro è un'eccellenza del mio paese d'origine, Cervere, che io ho cercato sempre di portare in alto per farlo conoscere anche in giro per l'Italia durante il mio percorso di Miss Italia. Adesso sono molto orgogliosa di ciò, sicuramente mi ha portato fortuna e in quest'anno da Miss Italia voglio farlo conoscere e soprattutto portarlo sempre con me.